Cari amici, buongiorno, vi do un aggiornamento e con questo vorrei fare una riflessione sul valore del silenzio. Diceva Monsignor Genswain di Papa Benedetto, Dum tace et clamat, mentre tace parla. In questa vicenda millenaria il ruolo del silenzio è importante tanto quanto quello che si dice, un po' come nella musica, le pause, il silenzio è espressivo tanto quanto le note, gli accordi, gli arpeggi. Papa Benedetto ha fatto del silenzio un vettore di comunicazione dirompente, diciamo. Un esempio classico, il Papa è uno solo, quale dei due tace, pausa, cancellato, sbianchettato, silenzio. Chiaramente questo è un silenzio parlante, un silenzio che crea un'anfibologia. Così come quando mi scrive tramite Monsignor Genswain, mi dice pur con ogni buon intento non è proprio possibile riceverla, non dice nulla in merito alla mia inchiesta, a quello che scrivevo su un giornale nazionale con una media di tre articoli a settimana. Così come quando Giuseppe Saccu scrive a Papa Benedetto e gli chiede ma Santità, ma lei è ancora il Papa, ma Bergoglio è il vero Papa, ci può dire chi è fra i due il vero Papa, ma perché lei ha rinunciato solo al ministerium e non al munus, eccetera. Anche lì Papa Benedetto tace e risponde, come sapete, in merito alla sua particolare richiesta questa non può essere accolta, se abbiamo già parlato in un precedente podcast. Ci sono i silenzi anche, diciamo, che sono espressivi in modo involontario, malgrado coloro che si trincerano dietro uno convent. Per esempio, il silenzio dei due archiatri pontifici, il professor Patrizio Polisca e il dottor Giampiero Vetturini. Oltre che il silenzio, beh, non è stato proprio un silenzio perché lo ha giustificato Monsignor Guido Marini, il cerimoniere, ho intervistato tutti e tre su alcuni dati banali. Scusate, ma l'incidente a Cuba di Papa Benedetto, quando è successo? Il 24, il 25, il 26, il 27, a Cuba o in Messico? Lei l'ha vista questa ferita sul capo di Papa Benedetto? Non erano domande dell'altro mondo, no? I due archiatri si sono trincerati nel silenzio assoluto. Monsignor Guido Marini mi ha fatto rispondere, eh beh, adesso è molto occupato con il giubileo, eccetera, e quindi non ha risposta. Anche qui un silenzio urlante, un silenzio che dice più di mille parole. L'ultimo silenzio è quello del dottore Andrea Tamburelli, direttore delle ville pontifice. Come ricordate, qualche giorno fa, io scrissi al direttore del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, che oggi è musealizzato, chiedendogli, scusi direttore, ma visto che è comparso questo articolo dalla Jan Soldata sul messaggero, fortemente screditante nei suoi confronti, ma è stato davvero lei a ordinare l'espianto della vigna di Papa Benedetto? E' vero o non è vero? Oppure ha ricevuto l'ordine da qualcuno a lei superiore? Chiaramente non è che ci sono molti superiori al dottor Tamburelli, ci sarà Bergoglio, il segretario di Stato e pochi altri. Allora il dottor Tamburelli avrebbe potuto tranquillamente dirmi, no, guardi, su questa cosa sono state dette un sacco di inesattezze, l'espianto della vigna di Papa Benedetto era stato deciso da tempo, perché dovevamo fare una stradina, dovevamo costruire questo, dovevamo costruire quest'altro e quindi era tutto pianificato. Di solito rispondono così i direttori dei musei, quando si fa loro una contestazione, rispondono documentando perché hanno preso quella decisione. E invece risponde la segretaria del direttore Tamburelli e mi dice mi spiace dover comunicare che al momento non è possibile fissare un'intervista con il dottor Andrea Tamburelli. Allora, questo non fa che rafforzare ulteriormente la percezione ovvia di tutti che il direttore delle ville pontifici abbia ricevuto un chiarissimo ordine da Bergoglio di espiantare la vigna di Papa Benedetto per ritorsione della sua partecipazione al libro del Cardinale Sarano. Partecipazione che è stata documentata da sua evidenza che ha pubblicato su Twitter il carteggio avuto con Papa Benedetto e che dimostrava appunto che Sarano mentiva affatto e Papa Benedetto è stato costretto a ritirare la sua firma però ha lasciato il testo così com'era. Quindi vedete bene che anche il silenzio del direttore delle ville pontifice ci conferma quello che si vedeva lontano un miglio cioè che l'espianto crudelissimo di questa giovane vigna un vero, posso dire, un'offesa alla natura un insulto al creato questa giovane vigna che era stata piantata nel 2005 all'elezione di Papa Benedetto la Col di Retti con un pensiero squisito ebbe a dichiarare che questo dono era stato fatto perché il Santo Padre aveva detto sono l'umile lavoratore nella vigna del Signore la Col di Retti gli regala questa vigna che finalmente dopo qualche anno comincia a dare frutto produce un vinello arriva a Bergoglio con la ruspa e gliela dispianta il giorno dopo che Benedetto viene costretto a ritirare la firma dal libro del Cardinal Sarà. Il fatto che il direttore di Castel Gandolfo abbia fatto chiaramente da parafulmine si vede lontano un miglio così come si vede lontano un miglio l'operazione di discredito della Gian Soldati che tenta di far passare Tamburelli come un manager che siccome viene dalla Peroni allora non capisce niente di beni culturali ed espianta vigne di papi così come si sveglia la mattina. È qualcosa di ridicolo vi prendono per deficienti magari hanno ragione statisticamente perché ormai il 90% delle persone che continuano a comprare questi giornaloni ha un pensiero critico pari a quello di un pesce rosso statisticamente funziona però vi invito a scrivere al messaggero e a far sapere la vostra opinione su queste operazioni della Gian Soldati che prima dice prima fa un sacco di ironia sul Monsignor Viganò e poi adesso ma eccellenza lei come vescovo e pastore di anime non si sente di dire qualcosa ai nostri lettori e fa la lecchinata a Viganò perché Viganò sappiamo che è strumentale il giochino e il poliziotto buono e il poliziotto cattivo prima nel 2020 la Gian Soldati si sdegna per questa operazione distruttrice verso la vigna di Papa Benedetto adesso tutta la colpa scaricata su Tamburelli che viene dalla Peroni che ha tentato di vendere i formaggi ma senza successo che è uno che non ha esperienza è che secondo lei si alza la mattina e decide di espiantare le vigne dei papi come gli gira tutto ciò è abbastanza ridicolo grazie un caro saluto a tutti noi ci vediamo il 29 dopo domani a Terni poi sarà la volta di Ascoli Piceno il 12 il 13 a Montesilvano il 18 a Maerba del Garda il 19 a Bergamo il 20 a Bologna con Diego Fusaro e Don Nutella un caro saluto a tutti ricordatevi di firmare entrambe le petizioni che trovate qui sotto al video in descrizione e Don Nutella